Buongiorno E valutando situazioni Sopra il numero, palleggio per distorcere Un applauso Grazie Un applauso Grazie Mi sono assistito a un clinic con Doug Moore Vi ricordate? Io sono un grande allenatore Quando gli diciamo le domande Ma il coach cosa fai contro la difesa uomo? Noi facciamo contropiede E passi contro la zona? Noi facciamo contropiede Il secondo è che contro il press Guido con il fast Questa è la vendetta adesso io spero che noi oltre al contropiede riusciremo a costruire qualcosa in più il compito che ci attende è molto duro però come direte dov'è Vincenzo? Vincenzo, siccome abbiamo studiato con lo Tito audaces fortuna iuant ok? la fortuna aiuta gli audaci 3 3, si, vai 4 ... nuovamente turiamo via e da di sotto passi la palla quando vuoi e la passi e la cosa importante che facciamo adesso è affacciarsi per fare la palla due cose, affacciarsi vuol dire farsi vedere dalla palla dove lo vedremo dopo, però intanto tu immagina la difesa ma intorno al pallone cerca di vedere due compagni almeno due adesso e tu sei da qua e allora, vedi la palla fai il resto fai il resto del guardamento andai a fare quello che vuoi rimanso sul cinto, al campo e via poi mettiamo la lega la lega, la lega, la lega la lega, la lega la lega la lega la lega la lega via, via ma due compagni dai, dai dai ok, vabbè che siamo la lega la lega la lega la lega la lega la lega via via su, la resta dire la lega la lega la lega su tutti da fronti a l'alto ok, stop scelta area 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 scelta come scrivete lo spazio adesso? ci siamo in solo con il palermo su il palermo il palermo ok l'alto è il palermo avanti in aria poi la condivide dall'aria con un piccolo caldo l'alto l'alto che è l'alto rippo l'alto 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 non so tra l'alto 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 cerchiamo di macinare la stessa l'alto usiamo solo passaggi laterali e passaggi alla destra ma si andiamo subito Andiamo! Chiude bene! E' l'altro che stai avendo mai da frente! No! So! Andiamo! Dai! Aspetta via! 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 Verso la mano! Arresta via! Molto bene! Dai! Dai! Via! Con il profondo! Ci siamo! Ci siamo! Ok! Ancora una volta! Prima però! Vieni insieme! Non fare chi! Andiamo! Usa un paletto solo! No! Non so va! E va! Ok! Vieni la! Dai! Vai! No! No! Adesso! Per male tempo, il tempo è giusto nella situazione della palma. E' consapevole della difesa di eserci. Siamo a prima! Ok! Iniziamo a passare la palma di ogni ambiente. Ci sono a continuare. Passaggio! Oh! Oh! La fritta di tira! Sono niente! Vai! Andiamo! Facciamo vedere i compagni! Cerchiamo questa palla! Adesso! Pronti? Almeno una fritta! Bravo! Non so! Adesso se non mi tira! Se non mi tira! Bravo! Tu vai a riparci! E spazio di tutto! Voi due però prendete indietro! E vi date i cinque quadri a pari la piante! Ok! E poi scomparite perchè i vostri compagni si affinano! D'accordo? Se non mi tira la macchina o lei? Ma questo perchè? Perchè è vero lo vogliamo correre! D'accordo? Ma non vogliamo correre ancora colore! Andiamo! Via! 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 Trovando la gata State! Io magari la gen Cohen prideco alle lo suono lo compagni! Cosa cosa vuoi riguardo? I moralo! Via! via un paletto sotto andiamo vita una vita so e siamo a dire a regole al basso però la squadra è sempre bilanciata potremmo evitare le transizioni però non voglio essere accorto d'accordo? ok un ultimo dai bravi bravo bravi oh guarda 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 le cose bene lui ha mai fatto bene i tuoi suoi clienti system guarda si Ok, adesso a questa velocità succede Rinde, non fermi Non spegnere il gioco Rinde Per fare la parte del gioco Ok Ok, abbiamo un quarto giocatore adesso Ok Facciamo Se dobbiamo fare con la destra Non ricorda la destra Ok, provando Fai più veloce E l'obiettivo E facciamo questo Piano, piano, piano Andate attenti L'obiettivo è di tornerlo smite Corri Dietro tutto quello che trovi Se riesci, lo fai portando la balla Perché non è detto per niente che s'affrono per la massa D'accordo? Vedi che c'è questo mandor qui? Ok E tu hai dato Facciamolo piano Vai Vai E fai la spazzata E stavolta questo Ok E stavolta qui usare Vieni Su Tutte le possibilità Vieni 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 Troppo Fino Fino Qui su E poi Ti siedi sulla riva di fondo Questa è l'idea Ok? Ok, Giovanni, lascia stare un'altra cammina la palla su, vieni qui e legge, perché vedi tutto, d'accordo? Non avere fretta, guarda dove va la palla, poi leggerete, andiamo, so! Piano, 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 Giovanni, stop! Adesso se Giovanni prende la palla, vai, diciamo che non è libero del giro, se la prende nell'area va per tirare, se la prende fuori dall'area si affaccia, vai, ok? Guarda, guarda, i compagni si spaziano e sono pronti in agguardo all'eprima, con i piedi e le mani pronti, è chiaro? All'eprima, all'eprima, non è libero, se la prende fuori dall'area, se la prende fuori dall'area, vai, 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 su, dai, vai, vai! Va bene, manda la palla, Simo, ok, ok, bravo, 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 bravo! Su ribalta adesso, guardiamo diretta, guardiamo i gialli, sprint! Marco, guarda la palla, guarda la palla per fare il pezzo, stop! Su ribalta meno della palla, attraverso o dietro, sì! La palla qui sta in giù, guarda, vai Marco, su, ok? Parlo con due possibilità, quella di andare nei punti della difesa, oppure quella di giocare in anticipo rispetto alla circulazione della palla. Se non sentite, vi potete avvicinare, eh? Vai, lascio, ok? Femato là, trova un difensore, capisce che ha un battaglio sul ribaltamento del lato e lavora in anticipo. È chiaro? Quindi non va, vieni da parte, è nascosto sul ribaltamento del lato oppure si gira il difensore, è chiaro? Rimandiamo in lato e vieni da parte, giallo, via! Via, 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 via! Oggi un lato, camma tre, camma, vai, vai, e trovo, va bene, bravo, 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 bravo! Guarda qua, voglio rascondersi! Nascondersi! Dai, 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 dai! Va bene, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Silinare e rascondersi! Via! Non fare sempre queste cose, se dovremmo, hai passato il laterale! Bravo, bravo! E stavare, bravo, resti, dovere! Sottomani, stoffo, ok? Dobbate. Tre di queste difendono, no? Giovanni sei fuori, si arriva, non no. Ok, poi siete qui davanti, via, poi soltete, ok, andiamo, soltete, poi siete qui davanti, sentite, 3, 4, 2, 3, tirati, tira, recupera la palla e si guarda di ritorno, gli altri 3 difendono il via da Federico, e poi recuperatesi dentro, poi adesso il vostro colpio è trovare solo libero, se c'è un vantaggio enorme, senza fretta, pescate più libero e cerchiamo di essere concreti, ok? Guardate, ok, ma di bellezza, via, a via su me, a via la mano, ormai la mano la mano, ora mommy, non lo puoi, bene il peso, bravi, gravi, fa prima volta, a solito il vipo, diamo che ti vengono, prese a voi, sguardo, triamento nella strana di vede, per esempio il corpo è un'altra parte non so, non so, non so, non so non so, non so, non so, non so non so, non so, non so ok, ecce, beh in presa che si passa e rimuovendo la sua palla di tempo e la mia stessa, muovendomi in maniera collegata al palo 3 cercate di impegnere, non so, non so ma di impegnere una roba di senti però voglio mettere, uno sulla palla due che è un problema ok, c'è una forza eh, agli altri bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo super, bravo , bravo bravissimo, bravo tira qua la forza, bene calitando, porta in spi adesso lo so, tu lo so foro la mano, bene guarda, bene super, fine bravo, vorrei buono, top, top ma perché devi servare? sei nel capo, giochiamo guarda, vado, vado, vado io dovrei essere, io dovrei essere guardata, cazzo, vado, vado vado, 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 vado vado, 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 vado vado, vado, vado vado, 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 v E' un problema di spazio, la palla di un piede, mi lasciamo una presidenza, se vuoi, se vuoi, ma più, così è arrivato un atto, non ci ha arrivato la palla. Ma non si può, ma non si può fare, 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 non si può fare. Ma non si può fare, 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 stessa idea, poi uscite, si riprendete sulla mano, poi toccate l'area verde e voi non metà campo, quindi entrare contro la visione, va bene? E' tutto chiaro, adesso siamo in quattro, quello che vi chiedo è mantenere la stessa intensità e se vuoi trasversare il flusso di, ok? E piano piano, di trovare confidenza nelle letture per fare il spazio di uno. Non c'è tempo, ok? Andiamo, alliamo! Allora, all'albezza della mano, sì! Ok? Scusa, scusa in qualche certo video! Ma poi è ferma. Ma, cioè a dire, è sapere cose che c'erano. Ma, cioè a dire! Ma io, io! Un po' è salto, il suo suono! Salto... Davanti mi entra, sai? Allora Giovanni, non direi che cos'è. Perciò! Non vuole mai il mio eserco, però... Vieni qua, facciamo vedere! Gatti, guardate il suo corico. La parliamo! Giovanni vieni con me! Vieni qua! Quindi non vai là, capito? A ristringere sempre. Vieni, vieni qua! Dai, facciamo vedere, dai! Cioè, nasconditi e poi cerchi di capire, ti metti, ti sincronizzi con dove ti metti la palla, cerchi di capire se il vantaggio è qui, oppure se la palla non è l'azzo, non vuoi escoltere e decidere dove prende la palla. Chiaro? Oh, hey! Allora! Allora, andiamo bene! Vabbè, andiamo! Andiamo! Allora, andiamo! Allora, andiamo! Andiamo! Dopo, ragazzi, abbiamo fatto stare così, non assolutamente. Non spostate la palla sull'azzo. Andiamo! 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 E cercate di non escludere l'attenzione di giocatore su un'altra. Andiamo! 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 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, gioco, la senti? I piatti che si stanno a preparare lo portai Gioca, non è al posto Non andare al posto, attenti Guarda quello che fai tu, eh Quale posizione hai? Chi sei la? Dalla palla a due a parte di un'altra Come prima Giovanni, io non voglio che tu restringi gli spazi dove non siamo ancora in grado di passare quasi niente la palla e facciamo già un po' di più e c'è il rischio che un solo giocatore si parli con il piede Tu giochi sempre in posizione della palla Se la palla, manda la palla Guarda che fai E tu vai con il tuo piede Ok, hai capito? Ti sono spiegato Questo è il mio manco Giochi in posizione della palla e manda la palla sempre un po' di piede Vai con il tuo piede Se vuoi, inizio da lì C'è da lì, inizio da lì E' un po' di piede 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 Non rimane così ma cosa? Io dovevo iniziare a dire Inizia a dire, scosti e fai vedere E' come quando giocavamo a luogo E' un po' di piede Ok Potete fare errore Purché Abbiamo iniziativa E' iniziativa Per piano E' un po' di piede E' un po' di piede Ma non ci siamo avanti E' un po' di piede Bravissima E' un po' di piede E' un po' di piede Oh Oh E' un po' di piede Oh Attento E' stata bravissima Parola, spiegando il passo Allora Noi due Ok Ultima volta Noi due Nuova Dovante Dovanti Dovanti Passe la palla Sì eh e poi dopo lo spazio con l'arrivo chiaro? dai, via dai, via dai, dai, dai dai, dai, dai dai, 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 dai dai, 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 dai va bene, va bene e lui ti legge qui ok succede che la difesa si legge gli occhi e l'atteggiamento del corpo chiaro? quando stai subito i passi noi stai subito ok e noi passiamo anche la carta quindi se lo piano sempre il tricoloso e noi usiamo il punto il medische ok? in aes madri dai, dai dai, dai, dai ai, dai, dai dai, dai, dai dai, dai, dai i 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 andiamo con piatti ok Marco e Marco e Andrea si trovano la maglia stura mentre in lato di spirito si trovano bene allora siamo 5 contropattoli 2 vieni fuori ok adesso siamo 5 contropattoli abbiamo di là 4 difensori gialli 5 attaccare con i neri 4 gialli 5 neri adesso sembra più facile ma è fondamentale rispettare il spazio ok allora abbiamo allora cambiare il corso allora Giovanni è il corso via che è il corso va bene vai giù massimo fai lo stesso lavoro di prima appena si è cambiato chi è il nostro numero 4 vai salto vai vai abbiamo detto questo Giovasco se lui è già scherato gioca di taglio è vero gioca la se non puoi prendere la palla ti affacci la mia parte di più non ci sono le carità la va bene adesso voi riconoscete questi due insieme uguali a questa questa collaborazione se tu prendi la palla fai il stesso lavoro come si è di prima guardi e se fronteggi fronteggi con il campo esterno in modo tale da prendere tutto lo spazio e tu sanno arrivare riconoscendo il vantaggio ok lo spazio benissimo legge e dopo è passata la palla ti scambi in posizione con lui con l'idea sempre non ho fatto la media di carica ma ti riconosci dello spazio va bene solo questo ok sempre come abbiamo fatto ma la terza 5 le ritirano via attivando si ferma e corre fuori dal campo insieme alla squadra l'ho spiegato i 4 gialli fanno apertura in 5 siamo sempre scelte contro 4 chi vuole l'apertura deve correre perché non vuole andare a legare l'ho spiegato l'ho spiegato chi tira esce e la regola basta adesso ancora in maniera intuitiva e cerchiamo di riconoscere gli spazi poi ci lavoriamo sotto ok andiamo via ecco 哪 ecco dai еф sf perf no tangham esatto guarda a sommárra guardo qui è colpa mia è quanto basta spazio passWas Allora adesso con la guarda Samuele, muoviti due giorni, ok, guarda la posizione di Filippo, che è quella fondamentale, puoi saltare una domanda, se non si sono pronti, quindi per seguire il ritaglio della guarda, allora ti muoviti un spazio di due giorni, e quindi ritorniamo un male di una situazione di guarda di due giorni, vabbè, avete capito con questo, Samuele però quando passi la guarda, passa la guarda, ok, non resta lì, ma rimorruci, se c'è uno spazio dove andare, se l'ha già preso due anni, ovviamente non ci va, ma se l'ho anima ci va, perché sta dormendo tutto qui, quindi dai quando parla, ok, allora lo prendiamo, vai qui su, taglia, vai, taglia, e vai lì in una situazione vuoto, vai se lo fate insieme, ok, vai, vai, bravissima, 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 bra lo attacchi o quantomeno, girai le punte di pieghe canestro, alzi lo sguardo e non ti fai in ogni caso devi venire passati dalla mia, non c'è nessuno due, perché ti guarda quella e quella, quindi non giocare mi semplice, questa non è vera se ti guarda questo, faci c'è la cultura, bene Sì, 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 sì. Bene, esatto. Sì, sì, sì. Ok, Giovanni, si fa la testa che si era ancora. Sì, sì. Si fa la nera, si fa la nera. Sì, sì. Giovanni, si fa la testa di scopo, eh? Sì, sì. Se hai già un testo solo. Andiamo, bravo. Gira. Tiro posizione. Sì! Sì! Mi porta! Sì! Ma non, ma non, ma non! E' il problema, non c'è chi sta dentro! Guarda, il primo! Uff! Oh, bravo! Ti faccio male, ragazza! Tuomini! 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 Non potete essere sorpresi da fare un amico di infezione. Tutte le tre sono le mie progetti. Alcuni abbiamo fatto un anno e li dobbiamo continuare a guardare. Ci siamo mangiati due o tre soluzioni faste. Spervi che la mano stessa, allora la mano stessa. E io ho un po' più e più le due. Chiaro? Quindi continuate a guardare il buon. Andiamo. Andiamo. E... Guarda, guarda, guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.